hola io sono marcus grong e qui c'è shifty wire e bentornati su astroneer il gioco dove marcus grong fa uccidere le persone mobide allora qui abbiamo niente energia e noi ancora abbiamo letto i commenti quindi che voi dite tutte cose che cos'è questo organico però ho scoperto che qui posso craftare delle cose certo la visuale è un po stronza allora il segnavento non lo possiamo fare il solare io già ne ho fatti due che credo che mi richiarino l'energia per fare una batteria serve il litio non l'ho idea il tether invece che posso craftare che già l'ho fatto uno è quel fregnaccio la adesso ve lo faccio vedere per allungare un po esatto un po proprio davvero un po vedete lui segue così arriva qua al massimo però poi posso piazzarlo fino a qui merda fino a qui e io adesso fino a qui vedi magari adesso morirò qui probabilmente la prossima volta allora 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 andiamo intanto a vedere se possiamo salvare il nostro progresso yes molto good qui potremmo inventare la piatta food potremmo fare qualcosa non lo so perché qui la batteria secondo me servono la batteria oppure no secondo te che cosa serve? allora vediamo un po se l'energia la possiamo ottenere due di resina direttamente allora noi sì no è una cosa che posso craftare io cosa facciamo stampante ricerca ce l'hai composto facciamo una ricerca vai compostati non ce l'hai? no non ce l'abbiamo l'abbiamo finito molto arrabbiata io sento del vento ragazzi oddio guarda c'è camminare poverino oddio è vero c'è guarda e di qua c'è c'è una condizione meteorologica molto stronza certo che sta cosa che si apre questo inventario incazzatissimo ma c'è un altro di tater? tater si no aspetta perché mi rimane volante? zero tater oddio blu blu cosa? guarda c'è no stai morendo come sto morendo? aiuto mamma come si chiude qui? diventando una cosa presto presto oh che dolore no non puoi salvarti mi arrivano le botte praticamente aiuto oh non mi spaccate le cose ma che figo guarda di cubetti aiuto cattivi e immobili cioè lui sta qui e poi arriva un cubo in faccia si fa salvarsi curi vediamo bomba no è morto regà era morto malissimo ecco quel che serve il segnavento bella chicco ridammi tutte le nostre cose ecco qui ecco qui ecco qui che è stombra bruttissima oddio perché è buona così? è passato cosa oddio questo è gigante aiuto ci segue la casa è buggato ok non si è più buggato madonna davvero fa paura allora noi dobbiamo trovare il litio il litio per fare ah lui mi chiede energia però se non ti è infatti noi ci serve una batteria vediamo qui c'è un serbatoio che si fa col titanio il generatore con il ramen quindi chiamiamo naruto no andiamo a cercare un po' di ramen e anche il composto se non sbaglio vero? questo è composto? non te lo potrebbe di subito? no ma che composto? forse questa è una forma di energia questa è resina? questa è resina? vediamo oh oh stai calmo ma sta su un fungo? fungo? ossigeno? bello me lo con... bello faccio la scorta e vado dentro le... no però poi muoio male cos'è quello? una pizza? pizza margherita come sei buono? bello un pianeta? un pianeta che credo sia più una luna non lo so tu sono una luna come ti permetto? io sono una luna va bene uh 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 un rottame no questo qui già l'abbiamo visto era inutile tipo era inutile ma sei sicura? titanio? fermi fermi dov'è il titanio? sotto? eccolo bravo bello l'abbiamo preso e qui? ricercalo come faccio a ricercarti? ma non può essere il coso credo tu usai il coso ah posso portarlo con me? non posso... no ma ce l'ho carico non so perché forse che ho due pannellotti solari ma è buio non lo so le funziona lasciamo precipità qui devo se vedo qualcosa che devo ricercare lo devo prendere e portare e portare qui credo non lo so anche io credo composto. Quanto composto abbiamo? Ce l'abbiamo? Non credo. Non abbiamo composto regà. Va molto bene. Questo questo è organico? Questo qui... Non è quello, quello che sembra avvocato. Ah sì, è organico, è organico. Vediamo? Organico, che poi non abbiamo capito a che cazzo serve, quindi non ce lo dico. Allora, il generatore vuole il ramen, però ti ricordi che abbiamo trovato il titanio e per il titanio serviva? Vediamo, l'insegnamento non ci interessa, il composto per un altro solare, il litio, tu dici che serviva... No, eccolo, titanio, serbatoio. E cosa te ne fai? Non ne ho idea, non ne ho davvero idea. Forse mi ha aumentato il serbatoio di coso? Di ossigeno? Sì, sì, la riserva di ossigeno aumenta, ragazzotti. Bellissimo. Allora, ci serve il compostos. Andiamo. Sono le palline. Dove stanno le palline? Erano queste? Erano queste palline qua? No, quello è resina. Là c'è qualcosa di rosa... No, rosso. Come si chiama quel colore brutto? Resina. Resina, no. No, questo è finito. No, 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 c'è? Vedè? Resina. Ok. Dov'è il composto? Voglio il composto. Andiamo laggiù, ce la facciamo perché abbiamo un sacco di ossigeno. In questo giro non moriremo, credo. spero. Questa è energia. Non fermarti, fai vedere così. No, ha cagato un'energia. E questa pure è energia. Dici? Eh sì. Guarda. Vedi? Bello, prendi nei tanti. Eh ma... Che faccio? Butto la roba? Ce l'ho pieno. Sono tutto pieno. La resina... Il tether? Io non ho capito perché mi dice che ce ne ho due vuoti. Cioè, che ci devo fare con sto tether? Poi dice zero e me lo lascia dentro. L'ossigeno! Aspetta! Aspetta! Ok, adesso sappiamo che lì c'è l'energia. E questa? No, piccolina, vieni con noi. Vai, ti porto. Così. Forse è quella che devi mettere dentro. Forse è questa che devo mettere dentro. Speriamo. Che bello poter passeggiare per cinque metri senza dover morire male. Ma che bello il cielo. Sì, è tutto sfrastaglioso. Forse questo era composto, sai? No. No? No, era... Resina. Solo resina. Sì. Ok, andiamo a provare a mettere quest'energia qua dentro. Niente energia. Ossigeno! No, dai, dai, ci siamo. Ci siamo. Dammi ossigeno. Perché no? Non lo so. Sì! 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 Che fa questo? Bello! Oddio, pannello solare. Uh, pannello solare! Che spettacolo! E guarda che serve il composto. Poi che... Aspetta, stoccaggio per metterci la roba. Che va dentro. Turbina eolica. Fantastico. Alluminio, alluminio, non ancora ne abbiamo trovato. Batteriona, litio, giusto. Generatore con rame. Un posto. Un posto non ho capito di rame. Ma cos'è? Una macchinina? Sì, c'hai una macchinina. Bello. Bello! Sì, 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 è strabello sto giochino. Ragazzi, io direi di andare e puntare sul pannello solare. Ma sì. Il problema è che del composto non ne vediamo neanche l'ombra. Quelle palline tutte fatte così. Quelle palline tutte fatte così. Quelle piccoline attaccate. Tipo questo, guarda. Tipo questo, vediamo un pochino. Yeah! Yeah! Grandissima Shafty! Un posto. Ma perché lo caga? Non voglio riprenderlo, ok. Oddio. Prendilo, Chico! È il posto pieno, forse. Senti, buttiamo sto coso. Io non credo che cazzo serve, sinceramente. Ok, è tipo la cosa più importante del gioco. Sì, noi lo stiamo buttando. Prendilo, prendilo un altro po'. Se servono due. Oddio. Stai calmo. Oddio. Cosa serve? No, ragazzi, che abbiamo trovato. C'hai ragione. No, 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 non morire, ti prego. Cos'è sta roba azzurra? No, non scherzare. Che succede? Oddio, sono dei peni. No, ragazzi, non posso uscire. Non posso. Cos'è sta roba? Non lo so. Diceva che importante. Idrazina. È tipo idrazina spray nasale. Idrazina. Oddio, ogni volta che toglie sta qui, è davvero una... Non posso uscire adesso? No. Vabbè, facciamo così. Dai, dai, che sta finendo l'ossigeno. Come sta finendo l'ossigeno? No. Dai, 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 esci, 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 esci. No, esci, esci. Dai, drones. Ok, non so che abbiamo usato. Dai, dai. Sì, sì, sì. Dov'è la casa? Dov'è? Dov'è casa? Casa laggiù. Ok, no, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ok, che spaventa. Uh, ragazzi, ricordiamoci di sto posto. Come si metteranno i waypoint? Nessuno lo sa. Ma che figo. Ma allora anche questo è composto. Sì. Sì, amore. Uh. Attento, attento, che cazzo. Cosa? Come si toglie? Ok. Ma qui è tipo Minecraft. Cioè, sotto ci sono, tipo, le grotte. Sì. Perché non salta il ciccio? Dai, salta strunzione. Davvero? Cioè, è proprio un babbeoide. Ok, composto. Pannello solare. Molto composto. L'altro composto. Vai. Ce lo stampi? Vai, Gicco. Che figo. No, ragazzi, è spettacolare. Dai. Adesso finisce l'energia. Adesso finisce l'energia. Abbiamo un pannellozzo solare che possiamo attaccare qui e gli ricarica l'energia. Bello. No. Fighissimo. Strabbello. Così non dovremmo attaccare l'energia del cazzo. Esatto. Bello. Allora, per il composto io direi che uno stoccaggio ci potrebbe servire. Sì. Però non abbiamo altro composto. E forse qui ci riusciamo a prendere questo. Dai. Dai. No, pezzo di merda. Uh, c'è un altro. Guarda, sta sotto. Sì, compostos. Che figo. Il problema è che sto scavando qui proprio dove c'è la casetta mia. No, ragazzi, è davvero, davvero figo. Vai. Stampa. Crafta. Stampa, anzi. Ah, mi stavate un altro pannello, bro. No, come un altro pannello? No, sono uno stroccio. No, 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 è un posto stoccaggio, bro. Ah, ok. Ok, e lo devo attaccare qui per forza qua. Non posso. Eh, penso che puoi attaccarlo anche di lì, credo. Ma poi si può. Ah, sì, che figo. Bello. Che figo. È tutto modulare. Che carino. Quindi io posso mettere, aprire l'inventario e tipo, che cazzo ne so, il titanio? No, aspetta. Il questo. Bellissimo, poi si vede così. Sì, è davvero un mobido. Troppo bello. Eh, no, aspetta, aspetta. No, si c'è. L'idrazina spray nasale che è importante e la resina. Perfetto. E siamo liberi adesso. Allora, di qua, io volevo fare la ricerca perché abbiamo questo coso, però ci serve altro compost e ci dobbiamo anche ricordare la direzione dove abbiamo trovato quel posto meraviglioso. Qua, guarda, un composto. Ah, però ce ne servono due di compost, eh. Uh, guarda quanto. Attento, attento quando scaghi la quadra. Bisogna stare uno poco attenti. Eccolo lì ancora. Dov'è il buco che abbiamo fatto per scendere? Boh, non lo so, non ne ho idea. Ho molta paura. Sì. Non andrei lì sotto per ora. No. Andiamo a cercare altro compost. E qui dice... E qui il buco, guarda. Qui dice... Ah, prendiamo la resina. Vabbè, la resina è buona. Thank you. Oh, da quando abbiamo l'ossigeno, però stiamo a una favola. Uh-huh. Che bello. Mi piace molto. E poi è stra elegante come scava sto gioco. Uh-huh. È davvero, davvero piacevole. Ok, dov'era che era il composto, Antonio? Eh, devi andare nelle aree rosa e cercare. Tu sei un'area rosa. Come ti permetti? E dov'è il composto? No, non l'hai preso. Molto arrabbiata. Non ce l'ha? Davvero? Allora, scendiamo di qui, facciamo così. Non c'è, molto triste Facciamo questo scava scava Fai tipo un coso per andare Eh sì, prima di andare via Ah io, non prendere Ma perché ci scivoli così come un babbeoide? Ok, qui che c'è? Che cosa sei? Sconosciuto No ragazzi ci dobbiamo portare a sto coso Oddio, ci sono gravi problemi con la telecamera Ragazzi Dove sto andando? Dov'è il passaggio quello segreto? Di qua, di qua Ah eccolo, sì Sconosciuto Ah lì c'è un altro buco, quanti buchi ho fatto? Un po' Facciamo così? Ecco Ma guarda posso modellare da tante distanze incredibili Ok Scappa scappa Riprendiamo Sì se no Adesso ce la facciamo, stiamo pure vicino a casa No merda, ok Tipo un animale, che cazzo Un animale Guarda cos'è Non ne ho idea sinceramente Andiamo a posarlo lì vicino Stiamo accumulando cose Fino a quando non traveremo il composto necessario Per la ricerca C'ho però il dubbio che serva Serve un altro pannello solare di qua Però forse si può spostare Vediamo un attimo Sì sì Vediamo un attimino Yes Yes Che figo Va bene andiamo a cercare sto composto maledetto Dov'è che non abbiamo Siamo andati di qua Aspetta fammi caricare L'ossigeno Grazie E addio per tutto il pesce Tutto 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 Oppure si sta ricaricando Non lo so Ti ricarichi Eh va più lento Va più lento Va più lento Però prendiamolo tutto Che è in porciance Dai ricarica Dai ci manca pochissimo Non voglio vedere una grotta No non voglio vedere una grotta No ne manca un po' Va bene Quanti ce ne abbiamo Uno due tre Perfetto 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 Torniamo Alla nostra base Che cazzo ci si fa con l'organico Ancora non ho capito Però va bene No vedi che si ricarica lentamente Forse con il sole si ricarica Eh patate non è giorno È giusto È giusto Allora Vai E vai E ricerca Sviluppa la ricerca Perfetto Andiamo a prendere Non vuole l'energia Si vuole l'energia Andiamo a prendere Il pannellozzo solare Che però non sembra Non c'è il sole Oh merda Volevi Volevi Bisogna aspettare ragazzi Aspettiamo un pochino Ragazzotti è venuto il giorno E tra l'altro Prima la tempesta C'è stata E siamo morti male Quindi ci riprendiamo Le nostre batterie E tutto quanto Il pannellozzo solare Ha caricato la ricerca Signore e signori Andiamo a ricercare Questo oggetto strano Che figo E vediamo che cos'è Guarda quant'energia Che emozione Oddio Te la trovo a caso Ah Ha studiato condensatore combustibile Che figo Quindi adesso potrò Ricercare l'olì Che Cioè Stamparlo Che spettacolo Andiamo a mettere questo Intanto Pianta di merda La pianta Bomborobambo Vediamo Generatore Un posto Pannello solare Stoccaggio Torbinatorica Batteria Generatore Un posto No non è successo Non è cambiato un cazzo Boh Forse Non ne ho idea Non ne ho idea Non lo sappiamo Ok vai Ricerchiamo la pianta Signore e signori Quanta energia sprecata Madonna davvero Che cazzo è Oddio Vedi che cerca Queste sagome Vai Piattaforma di scambio Cosa? Forse Ah forse Tra queste qui Questa qui è una piattaforma Vediamo Un posto Pannello solare Stoccaggio No non cambia il cazzo Non ho capito Le passo mio marito Voglio vedere Se è possibile Fare Un altro coso Vieni qui Resina Ce l'abbiamo Vai ce l'abbiamo Vieni di più Vieni di più Ma porca puttana Vieni di più Vieni 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 Mannaggia La tua Allora Andiamo qui E prendiamo Della resina Guarda quanta Buono Oppela E oppela L'organico ancora sembra non servirci a un cazzo di niente Ok, io voglio aumentare il raggio di questa Vieni qui Ok, perfetto E adesso Due di resine per fare una piattaformina Stampante Eccolo Condensatore combustibile Ricerca Fonditore, spazio piccolo, piattaforma di scambio Che prima non ce l'avevamo Ma neanche il condensatore Neanche il condensatore Vuole il rame, il condensatore Oddio, ho dato una crocca al microfono, scusate Vuole il rame, il condensatore è molto interessante Quindi anche la ricerca è stra importante Bene, signore e signori Abbiamo fatto passi da gigante Che carina Ora siamo puntati a questo gioco stra bellissimo Mi fa impazzire Ciao